Imparare, capire, ricordare e impegnarsi per costruire un futuro migliore. Questo l'invito rivolto agli studenti degli istituti Pertini e Santoni di Crotone in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci nella quale perirono il giudice Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta. Un incontro tra corpo docente e studenti organizzato dall'Associazione Solidarietà che ha visto la partecipazione del procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia che ha portato alla sua esperienza di magistrato. La legalità è capire che non viviamo da soli, è capire che siamo responsabili di tutti coloro che abbiamo accanto e come si dice semplicemente, ma è qualcosa di difficile, ci vuole una vita poi per comprenderlo, fare il proprio dovere. Fare il proprio dovere significa evidentemente comprendere che non siamo da soli né possiamo fare ciò che ci aggrada soltanto, ma dobbiamo tener conto di coloro che ci sono accanto. Dottore, da quel maledetto giorno, sono passati oltre 30 anni, tante generazioni, come sono cambiati i giovani d'oggi? Certamente vi è maggior consapevolezza, tanti problemi sono rimasti invariati, tanta battaglia deve essere ancora combattuta, ma è evidente che una diffusione molto più capillare di consapevolezza sta facendo fare passi in avanti. Sotto il profilo giudiziario le vittorie, i successi dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine sono evidentemente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto tanto, è stata fatta una pulizia riguardo a latitanti, anche gli ultimi arresti sono stati dei successi straordinari. è evidente che occorre però sempre vigilare perché il terreno su cui queste cose possono rinascere è purtroppo sempre molto abbondante e noi invece dobbiamo stare attenti a tagliare via la malapianta. Dov'era 30 anni fa il dottor Capoccio? Ero un giovane magistrato che guardava Giovanni Falcone come un suo modello, ero a Brindisi, facevo il pubblico ministero e ovviamente non vedevo l'ora di cominciare a lavorare come lui. All'incontro presenti anche Teresa Cortese, referente del progetto La Memoria e l'impegno, la dirigente scolastica Anna Maria Maltese, i docenti Elisabetta Barbuto e Roberto Rossitti che hanno moderato l'incontro.